La mia visita con l'ingegnere Arnold Franza, di TNO, ha detto che non ha stoppito il risultato e il sviluppo di risultato e il sviluppo di risultato. Il risultato non lo producì, ma di quello che non è produzione. Non c'è più un lavoro di risultato di molina. Il risultato di Dying Elephant, che non è stato un risultato. Il risultato di Dying Elephant, che non è stato un risultato di risultato che non è stato un risultato di risultato di risultato di risultato. Ma la mia visita è che il risultato di risultato di risultato per il clima di Aruba. E quindi la mia visita è un risultato di risultato. Il risultato di risultato di risultato di risultato. che non abbiamo ancora fatto. E non vedo qualcosa che vieni qua ora. E poi ci sono un'esplice e poi ci sono un'esplice e poi ci sono un'esplice per farlo in modo di ampliare le scuole. Inoltre non vedo che non è economica ma si è un'esplice ma che il primo ministro è stato il campagna che haciato a ruba 100% green energy e il messo è stato bene perché è impossibile perché Ora, come va bene, va depender di fossili fiumi e di energia verde, da come vi sto riferendo, da requerire un'opera inzieta per essere factibile. E così non è vero, va depender e non è vero. se c'è solo il panel da un certo parte del dia so che c'è uso di G, almeno se c'è la batteria, però è messa bisogna, se c'è la batteria, c'è mancha la roba, quindi non c'è facile, non c'è una roba cura di desarrollo per solo il panel.